Paola, vieni. Vedrai, c'è una cosa molto speciale. Davvero molto speciale. È così carino. Come si chiama? Questo è Fiocco di Neve. Una notizia straordinaria per grandi e piccini. L'unico gorilla bianco al mondo arriva domani allo zoo di Barcellona. Ehi, papà, cosa ci fa un orso polare nel nostro recinto? Guai in vista, grossissimi. Non è un orso polare, è un gorilla come noi. La vuoi una banana? Non sarà mai uno di noi. È un mostro. C'è una strega del nord che trasforma gli animali. Anche io vorrei trasformarmi in una pandema, ma lasciare lo zoo è troppo pericoloso. Sono stanco di essere preso in giro. Voglio essere un gorilla come tutti gli altri. È una miniera d'oro. È l'unico gorilla bianco al mondo. Potresti non tornare mai più. Se te ne vai. Beh, correrò il rischio. Aspettami! Parti con Fiocco di Neve. E il suo amico Miguel? Signora, lei non sa chi sono io. Per la più straordinaria avventura... Andiamo! Attenzione! ...della loro vita. Fiocco di Neve sta andando dalla strega del nord per cambiare il colore del pelo. Dobbiamo fermarlo. Siamo quasi arrivati. Guarda quel tipo sul furgone. Ci segue, ne sono certo. Te lo consegnerò su un piatto d'argento. Attenta a non fallire. Questa è la tua ultima occasione. Le avventure di Fiocco di Neve. Rassegnate! Sei una mosca bianca! Gennaio 2013 E' la tua ultima occasione. 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 E' la tua ultima occasione.